13 novembre 2015. Daesh compie una serie di attentati simultanei a Parigi, causando 128 morti. I principali fatti di sangue avvengono allo Stade de France con tre esplosioni durante l'amichevole di calcio Francia-Germania e al teatro Bataclan, nel corso di un concerto rock, dove si svolge la più sanguinosa fra le sei sparatorie pianificate dai terroristi. I responsabili sono quasi tutti i cittadini francesi di origine nord-africana. Sei kamikaze islamici si suicidano con le cinture esplosive.